ciao a tutti nesini siamo qui in un nuovo video oggi mi è arrivato un paccone enorme dalla giochi preziosi e quindi andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro e vediamo cosa mi hanno mandato e quali sono i nuovi prodotti che potete trovare nei negozi giocattoli andiamo a vedere gormiti allora abbiamo un bel po di set di gormiti giganti stavolta non sono quelli delle blind bag che abbiamo aperto l'altra volta ma sono un bel po di set di gormiti c'è anche un bracciale vedo qua e un altro gormita quindi andiamo ad aprirli e vediamo come sono allora iniziamo con questi abbiamo tre figure che il prezzo sinceramente non lo so però immagino che questi più piccolini vengano intorno ai 10 e questo forse 15 euro questo qua è lord titano e l'abbiamo già trovati in versione mini nelle blind bag e questi invece sono più grandi abbiamo idros e achilos come achille diciamo del mito greco e niente ora li andiamo ad aprire intanto vi faccio vedere un po le scatole allora questo è lui e questi sono tutti quelli che potete trovare che sono gli stessi delle blind bag ma questi sono articolati eccolo qua e appunto ci sono all'interno questi dischi che potete usare appunto nel bracciale che abbiamo e apriremo dopo poi abbiamo lui con i loro simboli questo sul retro sempre uguale e abbiamo l'ultimo che è appunto lord titano che è il più grande che dice qua fa anche un attacco speciale e eccolo qui poi abbiamo questi altri due in queste varianti lui sicuramente era il più bello penso questi sicuramente li regalerò anche ai miei cuginetti o ai miei amici piaceranno sicuramente tanto e perciò per natale così secondo me è un ottimo regalo magari per i maschietti oppure anche le femminucce se gli piacciono ovviamente e qua abbiamo appunto il bracciale che penso si illumini con questi dischetti qua e voi potete appunto metterci anche i dischetti dei vari personaggi eccolo qua e credo appunto sia parlante e qua appunto ci dice che ci sono otto action figures penso appunto con all'interno i vari dischetti che abbiamo detto adesso quindi iniziamo aprendo queste queste tre e poi apriamo il bracciale allora iniziamo da lui che è achilos e questo è la sua diciamo il suo disco allora vediamo com'è l'articolazione innanzitutto dunque il paint job è abbastanza semplice il mold però è fatto bene e le gambe si possono ruotare soltanto qui e le braccia così ma anche il gomito la testa pure ruota e quindi direi che le articolazioni sono abbastanza basic sulle gambe ma le braccia sono fatte abbastanza bene questo lo può tenere in mano tipo lo scettro che è gommoso quindi non fa male assolutamente direi che la sua figura la fa quindi se volete giocarci mi sembra buono c'è una specie di codice qua che non so a cosa serva questo qua e poi abbiamo la checklist con loro due che sono quelli giganti di 25 cm ci sono anche gli animali vedete che si chiamano hyper beast questi sono i deluxe poi abbiamo questi qua di 8 cm poi abbiamo questi e poi abbiamo quelli che si trovano nelle blind bag che abbiamo visto già nello scorso video che ve lo linko in descrizione se lo volete vedere il bracciale le blind bag e questo è praticamente il loro terreno di gioco penso un playset queste sono tutte le cose dei cormili che potete trovare ecco qua avevo chiesto purtroppo alla giochi preziosi se mi mandavano anche a me un poopsie unicorn slime però non me lo mandano quindi non ve lo posso recensire mi dispiace ve lo volevo recensire ma pazienza non ve lo posso recensire quindi andiamo avanti allora abbiamo hydros che è questo qua e anche lui vabbè stesse articolazioni carino ma preferisco lui sinceramente però vabbè abbastanza carino anche lui e qua una specie di frusta sarà la sua frusta carino dai abbastanza carino devo dire preferisco comunque appunto lui la checklist sarà la stessa un codice anche lui e poi abbiamo lui che è lord titano allora questo è la sua il suo disco qua ha una specie di martello che è in plastica dura stavolta non so se ha qualche funzione particolare ecco ho ucciso lui poverino si ha qui una specie di pulsante qua dietro se lo premete tipo così non so vediamo eh allora fa questa mossina da solo però è un po' a molliccia cioè dovrebbe farla forse più forte e quest'altra invece no si muove da solo e ha l'articolazione qua al gomito l'articolazione la testa ruota le gambe pure e anche le ginocchia stavolta ok quindi sto braccio che dovrebbe dare un bel cazzottone ma è un po' molle lo dà un po' così non lo dà fortissimo vabbè comunque gli facciamo tenere in mano questo magari con questo lo dà più forte vediamo un po' vediamo se così è più forte ecco così va giù un po' più forte perché c'ha il peso del martello ecco qua facciamogli schiaccia un po' a lui non lo ucciderebbe neanche con un dito penso no non è che dà botte chissà quanto forti vabbè è carino però questo qua forse deve essere un pochino più forte ancora il resto non ha altre articolazioni e adesso invece andiamo a vedere il bracciale allora ho dovuto mettere le pile perché non arriva con le pile inserite ci servono queste pile qua piccoline però beh dovete aprire e vedere quali pile vi servono qui ha praticamente uno strap e potete mettervelo al braccio questo qua mi potrebbe servire per qualche cosplay quindi penso che me lo terrò mentre gli altri penso di regalarli ai miei cuginetti all'interno arrivano questi quattro dischetti e il libretto delle istruzioni e la checklist allora abbiamo questo dischetto questo questo del fuoco e questo allora per utilizzarlo abbiamo un pulsante che è on off qui qui come sentite si è acceso poi c'è questo per cambiare che vedremo dopo e questi dischetti vanno inseriti qua allora questo fa la luce verde ecco con questo spara e basta credo poi tiriamo fuori questo mettiamo quest'altro praticamente si dice il nome che sta scritto qua sul dischetto i core questo quindi dirà track e niente fa i rumori della battaglia praticamente e ognuno è diverso come rumore e l'ultimo questo del fuoco riff proviamo questi qua che sono arrivati insieme alle figure proviamo lord titano come l'ho detto strano uh questo è il più elaborato voglio risentire il nome però titano che carino poi c'è questo achilos uh bello questo ah quindi questo fa due tipi di suoni bello poi lo togliamo e lo spegniamo questo è tutto ditemi che ne pensate dei nuovi gormiti allora io come design devo dire mi piacciono questi qua soprattutto e questi pure sono abbastanza articolati anche se il braccio è un po' mollino questo pure credo sia abbastanza carino e niente quindi fatemi sapere anche le blind bag mi erano piaciute lo sapete l'ho già recensita quindi ve le metto in descrizione se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per i prossimi video e fatemi sapere nei commenti cosa vorreste vedere aperto sul mio canale io vi mando un grosso bacio e un salutone ci vediamo al prossimo video ciao